se sei interessato al mondo degli investimenti iscriviti al mio canale ciao ragazzi benvenuti al nuovo video di oggi che è educazione finanziaria i sei tipi di stocks ossia i sei tipi di azioni allora il primo tipo sono quelle che vengono detti in inglese le growth ossia quelle che crescono rapidamente come per esempio tesla o nio il secondo tipo sono le blue chip ossia azioni che hanno una larga stabile e buona reputazione come apple e microsoft il terzo tipo sono le cosiddette penny stocks ossia che costano poco e sono molto volatili di solito il prezzo è sotto i 5 euro o i 5 dollari il quarto tipo sono le dividend stocks dividend stocks ossia usano i ricavi per pagare gli azionisti tipo coca cola o pepsi che più o meno ci hanno un dividendo del 3 qualcosa per cento ce ne sono anche alcune che hanno un dividendo molto più alto poi ci sono quelle che vengono dette defensive stocks ossia che offrono prodotti e servizi di cui tutti hanno bisogno come luce e gas per esempio e poi le cyclical stocks ossia dipendono dall'andamento dell'economia per esempio queste sono le azioni che ancora non si sono molto riprese o si stanno riprendendo adesso ossia l'economia dopo che c'è stato diciamo l'esplosione della bolla con l'avvento del covid le azioni sono andate giù e ancora non hanno recuperato come infatti l'economia non ha ancora recuperato e neanche queste stock hanno ancora recuperato questo è tutto ragazzi per oggi quindi 6 tipi di stock growth, blue chip, penny, dividend, defensive e cyclical se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti e iscrivetevi al mio canale